Ricettina veloce veloce, nell'ultimo momento, prendiamo una salamina, la tagliamo a fettine, la buttiamo in, ho tolto la pelle, la buttiamo in una padella bella calda e la rosoliamo senza olio e senza niente perché ovviamente perde il grasso la salamina, questa fortunatamente ne ha poco quindi va benissima così. Una volta che abbiamo rosolata per bene, vedete che la padella è bella scura perché abbiamo rosolato la nostra salamina, una salamina perché è la porzione per una persona. Vediamo, ok, abbiamo ancora pronto. Una volta rosolata per bene la nostra salamina, ok, senza aggiungere niente, vediamo un ovetto, lo spazziamo sopra la nostra salamina. e vediamo dei gussi, senza gusto ovviamente, prendiamo del sale, ma proprio il pizzico, eh, giusto per salare l'uovo, giusto proprio un pizzichino, prendiamo del pepe, ok, nel frattempo che l'uovo si rapprende. teniamo basso sempre il fornello. una volta che sarà pronto l'uovo, proprio ci vuole un minutino neanche. ecco qua, l'uovo è pronto, la salamina è. Allora, non ci resta che assemblare il piatto, quindi abbiamo la nostra patina, la nostra salamina, e poi abbiamo la salamina, la salamina, la salamina, la salamina, la salamina, la salamina e la salamina. Allora! Allora, poi abbiamo la salta del futuro. con salsiccia e uova è pronto buon appetito ciao ciao a tutti